Io come direttore dell'istituto ho sempre dato privilegio all'informatizzazione perché è molto importante nel comunicare i dati all'esterno, quindi diciamo in questo modo noi mandiamo i referti sia via web, sia mandiamo delle email, sia li mandiamo sul telefonino, però diciamo che in questo modo noi apriamo un rapporto diretto con i medici prescrittori, quindi nel momento in cui ci sta una problematica per il paziente, cioè nel momento in cui dobbiamo avvertire subito i medici, noi abbiamo un'altra via per poter mandare il referto direttamente in cartella del medico, in modo tale che lui lo può acquisire in tempo reale. Naturalmente in questo modo il medico ha tutti i dati del paziente a portata di mano senza che deve spendere del tempo a digitarli manualmente.